Diario di Bordo, episodio 2 Una serie di sfortunate circostanze ci ha spinti a cambiare programma. Invece di proseguire verso sud, lungo la costa est della Corsica, siamo tornati un pezzo indietro e abbiamo fatto rotta su Il Rus, sulla costa ovest. La veleggiata è stata tranquilla, con il vento in poppa. Esplorare la costa ovest della Corsica è il mio sogno da sempre. È selvaggia, schiva e misteriosa. A Il Rus ci siamo ormeggiati al Gavitello. L'acqua è spettacolare e il tramonto non è da meno. Non vedo l'ora di scendere a terra domani, ve ne parlerò nel prossimo episodio.